ecco ti benvenuto bentornato come stai tutto bene si sente bene ti vedo un po buglietto che c'è quella luce lì dietro che ti non ti puoi alzare perché giustamente sotto sei nudo no andiamo un po meglio sì sì un po meglio sì sì niente no io stavo intrattenendo e vediamo speriamo che anche oggi venga fuori qualche domanda però c'è un po di io un po di argomenti interessanti però appunto dico la chat di fare domande su qualsiasi cosa veramente sul lavoro su lavori sul lavoro che fai tu che faccio fai vedere i fai vedere i muscoli per sto karma oggi vestitissimo esatto e no dicevo appunto sul tuo lavoro su qualsiasi cosa riguarda il cinema mi raccomando e non dite posso fare una domanda sì dai veramente andiamo direttamente cioè facciamo fate le domande tanto tanto Joe le legge tutte io no però lui sì no vabbè però le legge anche tu ho visto sì anche io ho una io ho subito una cosa da chiederti com'è che è rivestito da marinaretto c'è una specie carnevale lì è carnevale ah giusto no è carnevale anche lì è giustamente però e questo dimostra quanto sono tristi gli adulti a Milano in Italia e quanto invece gli adulti sono sono bambineschi e insomma si divertono a gran canale Soprattutto noi che facciamo gli horror che ci fanno sempre da cose horror io no ero ero capitano film ho visto ho visto ho visto che tu non sei molto No poi la cosa bella è che qua il carnevale non è nello stesso mese nella stessa città e nella stessa isola quindi praticamente è carnevale tutto l'anno in pratica Ah se tu ti giri le isole ti diverti anche se ti giri le città perché il carnevale per esempio al sud non è nello stesso periodo del nord quindi cioè nord e sud parliamo di 40 minuti di macchina Mi viene da dire che l'hanno fatto apposta per avere sempre una scusa per festeggiare eh dovremmo ma chissà perché loro si vogliono bene e noi invece ci vogliamo male eh No ma tra l'altro qua è quasi sempre festa cioè nel senso cioè anche proprio a livello di giorni festivi cioè ogni giorno è che ne so un salto una Sì sì Una celebrazione di qualcosa il dia della Spagna il dia del... il fatto sta che stanno sempre senza fare un cazzo praticamente Però anche lo stile di vita è meno consumistico dai non è che si devono comprare tutti i giorni una cosa No Nuovano Qua per esempio non so se ne avevamo parlato qua c'è molto il senso del riciclo per esempio È molto bello a me piace andare in mercatini qua a Milano Ovviamente col fatto che l'isola comunque stiamo praticamente in Africa Non è che arriva proprio tutto e si trova proprio di tutto quindi per esempio se si rompe qualcosa si ripara Certo È molto molto difficile questa cosa quindi ci sono proprio i negozi dove si ripara di tutto dal telefono alla macchina da uscire Molto bella questa cosa E anche dove si riciclano i film ci sono dei negozi vari punti dove trovi libri, dischi usati Io vado... VHS? VHS si trovano Perché io ho il fetish però calcola quello che arriva qui è sempre molto limitato perché è comunque in Spagna non c'è Certo La cultura che ne so del collezionismo o non arrivano tutti i film che arrivano Certamente Viene da dire in Europa però insomma Sì comunque anche io devo riprendere un po' il mio giro per mercatini Avevo notato che per esempio le console quelle degli anni 80 vengono vendute a 5 euro al mercatino E poi su internet costano 35-40 Cioè potrebbe essere un business andare per mercatini Cioè è questo consumismo assurdo per cui uno piuttosto che muovere il sedere Paga quelle cifre su internet No ma sai poi c'è una cosa assurda Per esempio nel sud che c'è molto turismo specialmente di stranieri no? Che sono magari persone di passaggio che vengono tot mesi O addirittura che magari si comprano casa stagionale no? Prende e rinnovano tutto Prendono la casa e rinnovano tutto E buttano magari tutto quello che c'è dentro E praticamente lo buttano vicino ai cassonetti E quella roba nel giro di mezz'ora Sparisce certo No ma la cosa assurda è che tu magari nei cassonetti qua nel sud per esempio Trovi macchine di caffè della Nespresso nuove Che funzionano Seri di design che all'eroe Merlin ti rendono 500 euro Ah sì bisogna tenere l'occhio aperto quando si passa No perché sai magari Sì sì Questi comprano per rinnovare però c'è questa cultura del buttare no? Mentre invece appunto ti ripeto Io c'è un amico che si è fatto un ristorante tutto arredato con la roba che la gente Bello E c'era roba di stravalore dentro Certo Dalle radio antiche della Pioneer Che magari sono roba che ti costano a comprarla in un mercato dell'usato anche 1000 euro E lì te le trovi buttate perché la gente c'è questo senso di rinnovare no? Senza nemmeno dare il valore alle cose Ha senso quindi avere i film fisici secondo te? Sì anche se sto notando un fenomeno un po' particolare di recente Che praticamente c'è tantissima gente che colleziona no? Compra 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 colleziona Si fa la collezione e poi rivende tutto Allora ci sono i bagarini Tutto proprio Sì ci sono i bagarini che comprano magari due copie Tre copie del film raro Perché una se la tengono e due poi le rivendono Quando il film va fuori edizione no? E le rivendono a prezzi magari altissimi Vedi per esempio Opera Mortem Che stava anche a 1000 euro su eBay Però invece c'è proprio gente che si compra intere collezioni Poi dopo un anno se la rivende tutta Magari anche a dei prezzi regalati Ah perché è diventato povero in un frattempo No perché se non è un fatto di povertà Perché se tu compri un pezzo da collezione E non lo rivendi a meno del valore che l'hai comprato Cioè significa che tu non capisci neanche il valore di quello che hai comprato Quindi questa gente che semplicemente oggi è collezionista di film Domani sarà collezionista di dischi Dopo domani sarà collezionista di figurine O modaiola Sì 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 Domani sarà collezionista di film Uh che bello ne compro tanti pure io E poi dopo un anno li vedi come a me anche Dopo due mesi Vedi che sono arrivato in delle collezioni Le svendono Facendo la gioia veramente di altri Pazzesco Pazzesco Io volevo Per visto che Chris Cronenberg È uno di quelli che fa più domande L'altra volta aveva fatto una domanda Gli ho detto Ricordati di Siccome era la fine Che ne riparliamo E aveva chiesto qualcosa su Angst E su è ripiogge di sangue Tu avevi iniziato Insomma un po' a parlare dei film Grazie Giova per il ride Scusami Benvenuti a tutti i rider E avevi iniziato E ne parliamo Anche se Solo una cosa Io sono Gonza Questo è un canale di cinema Cinema horror Lui è domiziano Cristoforo Regista di film Horror estremi E anche tantissime altre cose Se stiamo chiacchierando di cinema Nello specifico Ora stiamo parlando di Angst E poi anche di Henry A pioggia di sangue Angst è un film molto violento Che è difficile da reperire Tra l'altro No? Abbastanza difficile Non lo so se è difficile Cioè nel senso Legalmente Forse in Italia Credo Non c'è Questo non lo so Non mi sono informato Però penso che all'estero Si trovi senza problemi Anche lezioni Qualcuno scopriamo subito Andando Guarda Facciamo Angst 1983 Sì l'altra volta dicevi Che avevi anche Qualcuno Qualcuno Su Amazon Te lo dico subito E in Blu-ray Su Amazon Che costa addirittura 41 euro Perché si vede Che forse è un'edizione Un pochino Vecchia Però c'è Si trova Insomma Cosa ne pensi Di questo film? Sì allora Diciamo che Ne parliamo Anche se Secondo me Perché poi Io dico Parlare di film Di cui si può leggere E trovare Ovunque Recensioni Opinioni Tanto più Che questo Parliamo di Angst Parliamo di Uno dei film Preferiti Di Gaspar Noè Quindi insomma Di cui Gaspar Noè Cita ampiamente Lungo e largo Quindi Parliamo anche Di cose Che magari Sono meno Meno reperibili Meno Tu dici Questa direttora È famosa Rispetto ad altre cose No? Beh Magari in Italia Non lo so Però sicuramente All'estero È più famosa Che ha ispirato Tantissimi registi Tra l'altro Il direttore Della fotografia Di questo film Non so se Poco prima O subito dopo Vinse un Oscar Per un regista A sua volta Per un suo portometraggio Tra l'altro Il direttore della fotografia Che ha fatto Un lavoro strepitoso Per questo film Ha diretto poi Tantissimi videoclip Dai Simple Minds Ai Fashion Boys Fino anche Ai Propaganda Negli anni 80 Quindi Ecco Una cosa Che magari È interessante dire Di questi film Rispetto magari Appunto Alla critica Al parere personale O appunto La trama O quanto può essere Fatto bene E fatto male Ripeto Sono informazioni Che sono abbastanza Veramente facilmente Qua alla fine Reperibili Come parlare Se parliamo Ma la nostra opinione Vale di più No E poi Parliamo di sospire Al finale Sticazzi Cioè no Però Diciamo che Angst Allora Oltre Diciamo qualche curiosità Oltre a essere Il film preferito Di Gaspar Noé A cui Lui dice Di rifarsi Per Per fare Sui film Per sviluppare Un po' L'approfondimento Sui personaggi Eccetera Pochi Sanno Che esiste In due versioni Esiste Tipo Io non lo sapevo Esatto Vedi Esiste Una versione estesa Che è quella Ufficiale Della distribuzione E poi c'è la Directors Cut Che Udite Udite In realtà Dura Di meno Perché c'è questa C'è questa convinzione Spesso che La Directors Cut Sia per l'una Una versione più estesa Piena di roba Piena di sangue Invece spesso Le Directors Cut Sono più corte Perché il taglio Registico Vuole essere Un pochino più Ermetico Magari un po' Più autorale Un pochino più asciutto Mentre invece Ad allungare il brodo Spesso sono le produzioni E in questo caso Il film è dura 8 minuti La reazione cinematografica Quando uscì Dura quasi 8 minuti Di più Perché il produttore Credeva che il film Durasse effettivamente Un po' poco Per l'uscita in sala Quindi fu aggiunto Un prologo Che invece il regista Poi ha deciso Di tagliare Perché nulla Effettivamente Aggiunge Al Al film Io mi sono accorto Praticamente Di questo Di questa esistenza Di queste due versioni Perché Ho visto il film E poi Video Una recensione Del film Fatta da Un canale Tedesco Che parlava Del prologo No Che mostrava immagini Che io non avevo Mai nel film E dico Ma allora forse Ho visto una versione Censurata E invece esistono Queste due Queste due versioni Dove effettivamente Nel prologo Si parla un po' Della sua infanzia Praticamente Del serial killer Sì che in effetti Un po' Cambia un bel po' Perché Non sapere È affascinante Non sapere Niente di lui Sì beh Secondo me Uno dei film più belli Del genere Diciamo Chiamamolo Slash Così È Black Christmas No Dove l'assassino Tu addirittura Non sai nulla Non lo vedi neanche mai E l'ho trovato Sempre un film Geniale Questa cosa di Non dover spiegare Non dover giustificare Non dover Introdurre Presentare Spiegare alla fine Cioè St'assassino Non ha neanche una faccia Lo vediamo solo in soggettiva Si intrufola in quella casa Fa un massacro Rimane lì E chi era Non si sa Sti cazzi Geniale Cioè veramente geniale Sì solitamente Togliere È anche meglio Perché lasci anche Proprio All'interpretazione All'autosuggestione Anche no Esatto Una cosa che mi piace Sottolineare Quando si parla comunque Di Angst Come per esempio Io lo abbino Sempre un po' Tecnicamente Idealmente A certi film Come Evil Dead O Anche Shram Di Bargerade Dove Questi film C'era una ricerca Registica Che era veramente Incredibile Per l'epoca Cioè Si costruivano Addirittura Dei tool Come ti posso dire Delle robe Che non esistevano Nello standard Per creare Proprio delle Archibugi Tipo archibugi Tipo macchinari Per poter muovere La telecamera In vari modi In un modo Che non esista Voleva Cioè Io voglio Questa inquadratura Come si può fare Oggi ti rispondono Eh non si può fare Perché non c'è niente Non esiste Cazzo All'epoca Se la inventavano Quello che non esisteva Cioè Tu pensa che Sam Raimi Ha Praticamente inventato Una sua steticam Al punto che L'ha addirittura Brevettata Ha un OF Che funziona quasi Come una steticam È però diversa E quindi L'ha potuta brevettare E Perché? Perché voleva fare Appunto Questi movimenti Nel bosco Sì In Shram C'è quel carrello Circolare Bellissimo Che gira intorno All'attore Che ti fa questa sorta Di movimento Circolare Che sembra passare Nel pavimento Ritornare Questo cioè Non è una Roba che esiste E come si fa Quello? Hanno creato Una struttura Un binario Dove Scorre In Angst Che è un film Comunque Indipendente Perché comunque Rimane un film Indipendente Non c'erano tutti i soldi Per fare per esempio Il crane No? Il crane È quella specie Di carrello Per chi non lo sa Che si È come una crew No? Si solleva C'è la telecamera Sovra E la sposti La usata Per esempio Dario Argento Per rendere Uno degli esempi In tenebre In tenebre Esatto Tenebre Quando passa anche Da una finestra All'altra Molto bello Esatto In arms Invece questo crane Che noi vediamo Specialmente all'inizio Di questa telecamera Che è stato fatto È stato fatto con delle funi Cioè C'erano delle carruvole Con delle funi Su cui scorreva Poi la telecamera Quindi ecco Non posso avere il crane Perché costa tanto Eccetera Cioè Si sono Però anche costruirlo Comunque Può essere Può essere costoso Anche no Può essere anche Quello Una parte di costi Però ecco Non ti costa Ma mi veniva in mente Per esempio Non aprite quella porta Che è famoso Proprio perché Non ha tutti questi Inquadrature dall'alto Perché era un film Basso budget Ed è tutto Praticamente Ripreso da terra Sì Però addirittura Lì si gioca molto Sull'entrare Quasi Nel personale Questi zoom Questi dettagli Magro nell'occhio Di lei Cioè È giocato Sul crearti Questa cosa Sì Quindi insomma Diciamo ecco Era un'epoca Molto bella Quando oggi Che si può Veramente Avere Oggi Scusami È tutto un po' Smooth Te lo dico proprio Smooth Cioè Tutti i movimenti Perché c'è Tutta questa cosa Del software Che ti Ti mette a posto Le immagini Quando ballano Più Tutti questi apparecchi Per ammorbidire Che sono Dell'estetica moderna Ma non è Diciamo Non è solo quello Nel senso che Cioè Io quello che Oggi Mi fa incazzare Quando vedi Che oggi abbiamo Dei mezzi Tecnici A portata di mano Che sono veramente Regalati Perché Con pochissimo Un spallaccio All'inizio Di quando ho iniziato Io costava anche Più di mille euro Oggi lo trovi A centinaio di euro Un spallaccio Che ti aiuta a fare Una camera a spalla Senza che sia Ipertremolante Quindi abbiamo Abbiamo una tecnologia Che ci ha battuto Terrificantemente I costi Ma allo stesso tempo La gente Per il proprio film Sembra che non voglia Spendere Quell'euro in più O Quella Quella Idea in più Di dire Io voglio fare Sta cosa In questa maniera Come la faccio? Boh Io Per esempio Ti dico Abbiamo fatto Tempo fa Qualche anno fa Per Poison Rouge Un videoclip Per White Gardenia Che Insomma Un gruppo Diciamo Noise metal Americano Che si chiama Please not in my mouth Quindi questo Titolo Un po' così Ambiguo E Poison voleva Praticamente La ripresa Da dentro La bocca Dell'attore Dove lei Mette questo Cacciavite Nella bocca E voleva Che si vedesse Da dentro È stata ricostruita Una bocca Più grande Per fare Quella inquadratura Che si vede Per due tre secondi Nel cortometraggio Nel videoclip Ecco Altri del progetto Come si fa Non si può Lì ci abbiamo perso Più tempo Per fare quella roba Che tutto il resto Però Quei due tre secondi Da dentro La bocca Meritano Perché È una visione Ecco C'è gente Che per avere Ottenere la sua visione Ci lotta Ci spende Ci investe E altri Che invece Hanno a disposizione Tante tante robe Non le fanno Non le usano Cioè io vedo Una regia Molto standard Oggi Nei corti Nei film Vedo che è tutto Stereotipato È il carrello Il drone La zoomatina Però non c'è mai Un lavoro effettivamente Di dire No io la voglio così Non perché Il carrello Mi permette di farla così Oggi si fa Quello che i mezzi Tecnici a disposizione Mi permettono di fare Mentre invece Una volta Era la tecnologia Che si doveva piegare Alla tua volontà Quindi oggi Si siede E fa quello Che la tecnologia Forse perché Pensa che sia Stato ora Sia tutto possibile Con la tecnologia Cioè c'è C'è un'apparecchiatura Un'attrezzatura Per tutto Forse Sì ma d'altro Questo che tu dicevi Smuti No Io mi ricordo Due grandi filmoni Che uno è Giulietta degli spiriti Di Federico Fellini Dove praticamente C'è Quasi a metà film Quando c'è Mi sembra La scena della cena A casa di Giulietta C'è questo Carrello Crane Perché è sopraelevato Ovviamente Giulietta degli spiriti È tutto fatto in studio Come quasi tutti i film Di Fellini C'è questo crane Che va verso la casa Di Giulietta E fra gli alberi Traballa Cioè Vediamo proprio La telecamera Che traballa così Tuttora Cioè Stiamo parlando In un film Di Fellini L'hanno tenuta L'hanno montata Oggi Se un indipendente C'ha l'inquadratura Che è un po' mossa Non solo si autocritica Ma gli arrivano pure Le critiche Ah È un po' amatoriale Perché la camera Balla Un altro film Invece Ma infatti Prima volevo dirti La sporcatura Del cinema Di una volta Che c'è anche Come hai fatto notare Nei grandi registi È quella cosa lì Che sta andando Anche un po' via Cioè Cioè la sporcatura Proprio Della ripresa E il cercare Di non far ballare La camera Il cercare Di fare Però si porta Dietro di sé Una certa Non so Naturalezza Mi verrebbe da dire Altri ma si parlava Si parlava di film Di autori Cioè Non stavano a pensare Poi troppo Alla Cioè è quello che È quello che ti arriva Che è importante Non sempre come ti arriva Perché non è che la pulizia Stilistica Equivale poi a una qualità Del prodotto Anzi assolutamente no Un altro film che ti dicevo È una giornata particolare Con Sofia Loren e Mastroianni C'è Una scena iniziale Che è spettacolare Di questo Crane Che da fuori Dalla strada Entra Praticamente Si avvicina al palazzo In uno dei piani alti Il quarto o quinto piano Di questo palazzo Va nella finestra Poi dalla finestra Entra E segue la Loren Dentro casa È un film straordinario Lì però c'è uno stacco Immagino C'è C'è ma non si vede C'è ma non c'è uno stacco C'è la camera Passa da fuori A dentro Su un altro supporto Ok Ok capito Vedi Percepisci che la camera Dal crane esterno Viene smontata E poggiata Su un altro supporto interno C'è questo salto Oggi Non te lo avrebbero fatto passare Questo salto Sarebbe dovuto entrare In maniera fluida No Mentre invece lì Tu proprio vedi Che la camera Dal carrello Percepisci che qualcuno La prende La poggia Esatto Però cazzo Ragazzi Ma diamo di storia del cinema Capito Quindi sì Per rispondere a sto karma Secondo me Non è che c'è pigrizia Nel trovare nuove soluzioni tecniche Perché abbiamo secondo me Molti registi Che proprio non hanno Né La voglia Di Di Osare A dire Il cazzo Di questa inquadratura La vorrei dall'altro La vorrei da dentro Vorrei che gli giri intorno Ecco io Una cosa che mi Mi viene da dire che Scusa se ti interrompo Così Almeno Dico qualcosa Che io James Wan È un po' così Però no È uno Cioè io Sembra Sembra che io Per culo James Wan Ma non è così James Wan è uno Che fa Delle prove Degli esperimenti No Di Da dove riprende In James Wan Non Per esempio La macchina Non sta mai ferma Non esiste Anche un primo piano C'è sempre Un leggero movimento In avanti Se tu ci fai caso Nei film di Wan La camera Non è mai Ferma Cioè c'è sempre Un leggero movimento E poi fa anche lui Tante acrobazie Diciamo Magari ne fa pure troppe Però Sì sì Infatti io lo dico Che non mi piace molto Come regista Però È molto audace Dico sempre Perché è uno Che osa Fino a Forse fino a esagerare Sì sì Ma ti dico Io ogni tanto Ecco quando vedo Per esempio Anche il Suspiria Di Guadagnino Che è ingiustamente Stracriticato Allora a me per esempio Il finale Non piace molto Perché Credo che si perda Guadagnino Proprio laddove Ha voluto fare l'oro Cioè si vede Che l'oro Non era la sua materia E infatti Proprio lì Diciamo Zoppica un po' Il film Mentre invece Tutta la parte drammatica Introspettiva Autorale Precedente È Sì Diciamo che però In quella scena Del Sabba Chiamiamolo Sabba Comunque si vede Una ricerca Da parte di Guadagnino Anche stilistica Cioè lui rompe Con la simmetria La geometria La pulizia Di tutta la parte Iniziale del film Per andare su una camera A mano Che addirittura Appunto si muove Gira Si rovescia No Per creare Questo senso Di causa Si vede Una ricerca Di linguaggio Capito Che non vuole essere Appunto seduta Stereotipata Eccetera Poi si è riuscita O no Però Gli errori Li fa Chi le cose Le fa Cioè Chi non sbaglia mai Perché non fa Mancazzo Non cambia mai niente E rimane sempre Nel binario Della mediocrità Diciamo Anche nel Diciamo che Ecco Tra l'altro Ci sono anche Proposte visive Come dice sto karma Che per esempio I film di Netflix Se tu li vedi Cambi I film Sono tutti uguali Perché sono tutti Uniformati Proprio per delle regole Per esempio Tu per mandare Un film a Netflix O per fare Un film per Netflix Devi addirittura Utilizzare Determinate Attrezzature Cioè Loro vogliono Film girati Con la Harry Con la Con la Scarlet Con determinati Tipi di carri Che sono Quel tipo di look Perché Ma io Penso anche Forse in maniera Molto terrapiattista Da complottaro Io ci vedo anche La volontà di omologare Proprio il gusto Delle persone Che sono dentro Ma lì sai Piegato è un brand Come per dire Sai Disney tipo Riconosco subito Il marchio Netflix Perché ha quelle tinte Quei colori Quelle robe Quindi è un film Netflix Per loro Funziona Come brand A livello artistico Chiaramente Funziona molto meno Perché l'arte Non può essere Tutto monogano Tutto uguale Quindi chiaramente Quando già Un prodotto artistico Tu lo Lo pianifichi Già a tavolino Su come deve essere Chiaramente Lo snatur Del potenziale Che può avere Certo Exdrammer L'hai visto Che viene citato No Non l'ho visto Ho sentito sempre Parlare molto Però no Non l'ho visto Anche perché Ci sono Diciamo Diciamo Che hanno delle priorità E altri Chiaramente Meno Come penso Per tutti Io tra l'altro Far ridere la cosa Però Non sono poi Effettivamente Super fanatico Del lore Non è il mio genere Favorito In assoluto Però ne conosci Tanto Ci sono tanti Critici Per esempio Che non conoscono Film horror Cioè critici Tendo quelli Della vecchia guardia Che non conoscono I film horror Perché diciamo Le hanno sempre Un po' sdobbati Quindi No io non è che li sdobbo Diciamo che Soprattutto nei film Nuovi Effettivamente C'è anche tanta Spesso si incappa Veramente in tanta Spazzatura Quindi Un po' ti stanchi pure Di stare a vedere Diciamo che io Per esempio A priori Quasi sempre Edito Sequel Prequel E spin off Perché normalmente Già sono garantiti Che sono una cagata Poi magari C'è l'eccezione Quella lì La si vede nel tempo Perché sai Non bisogna neanche Credere Né alla critica Né all'ufficio stampa Cioè quando Tutta la critica Ti dice il film dell'anno Stai sicuro Che probabilmente Non lo è Magari poi lo è Però ecco Questo lo dirà Il Tipo quando dicono La gente è stata male In sala Ma sai Potrebbe anche essere vero Perché purtroppo Sì ma magari Perché ha mangiato Qualcosa di Variato No No Sai che Quando questi film Arrivano al grande pubblico No Cioè tu immagina Noi siamo persone Che magari come tu Dici hai visto Erotic Hai visto Serbian Film Hai visto Suspiria Hai visto anche Altri individui di film No Mario Hai visto delle cose C'è gente invece Che magari Non è abituata Che ha visto Magari è appunto Che ne so Paranormal Attivity Dove effettivamente Non succede nulla Esatto Poi vai a vedere Terri Fai Sempre al cinema E E beh Il colpo Capito Ma il 2 Mi ha abbastanza colpito Il 2 Mi ha abbastanza Fatto effetto Come alcune scene splatter Molto bello A me piace Moltissimo Quindi per quello Che ti dico Sai però Immagini una persona Che non è abituata A certe cose Chiaramente Ti affetta No Però non vuol dire Che poi il film Sia Per noi Non è insostenibile Nulla di Che non abbiamo mai visto O peggio Però Ecco Diciamo che Queste cose Succedevano Anche all'epoca Quando uscivano film Come zombie 2 No Sì no Ma quello che sta male C'è sempre Poi Comunque anche Molto Cioè Anche chi ha già visto Tanti horror Potrebbe star male Davanti a una cosa Che in particolare Su di lui Ha un effetto Più forte Tu pensa che Sacrifice American Guiney Pig Sacrifice Da mio prodotto Perché lo dici Perché lo so Al festival Dell'estremo A Parigi Che c'è un festival Dedicato al cinema Estremo Il Sadiq Master Si chiama quindi Il Sadiq Master Cioè Il maestro Sei tu il master sadico Esatto Pensa C'è gente Che è svenuta E ha vomitato Ma ci credo Nonostante Stavano A un festival Estremo Anche io con te Tro ogni tanto Rischiato di vomitare A dire la verità Ma facci Perché non ci fai un video Invece dove tu Fai le reaction Mentre guardi Un film Ma ci pensavo Perché in realtà Ce ne sono alcuni Dove proprio Io sono sul divano E mi immaginavo Se avessi avuto E sono così Tipo che Provo a guardare Ma non guardo Proprio girato Perché comunque È un paio di Un paio di cose Cioè Alcune Vabbè Però un paio di cose Deve effettivamente Mi hanno un pochino Disgustato Guardi Un film Tetro estremo E io ne faccio uno Mentre guardo Jordan Peele Esatto Vediamo proprio E poi li montiamo insieme Ci do a pensare In effetti Piacciano i musical A me Sto karma Piacciano molto I musical I miei film Preferiti In assoluto Sono Cabarelli Bob Foss Proprio number one Che lo vedrei Anche 18.000 volte Vabbè The Rocky Horror Picciuscio Boyfriend Di Ken Russell I miei film preferiti Sono in realtà Sono i musical Sì Io non ho un fetish Per il musical Però Cerco sempre Di spiegare Che comunque Sono Sono film Che vanno Capiti Cioè Un linguaggio Che va capito E piano piano Si possono apprezzare Se uno Si sforza Perché sono Veramente belli Dei musical Dico Non sono Non sono uno Dei miei generi preferiti Però a me piacciono E quando Ha detto Da capire Sì Perché Non so come dire È un po' come andare a vedere l'opera Non la prima volta Vai a vedere l'opera Tu parli di Bollywood Però No Parlo di Parlo di Proprio non essere abituati A Quel tipo di narrazione Quindi la gente Che canta Che ballo Capito Quindi È un po' più il pubblico Che mi spiega Perché non gli piacciono E quindi io Ma dipende da cosa guarda Perché ad esempio Cabaret No Hanno una repulsione È un film drammatico Hanno una repulsione totale Appena qualcuno canta O si sentono che dentro C'è del cantato Ma sai perché Io per esempio Questa cosa Ce l'ho per i film Disney Per esempio A me piacciono i musical Ma non sopporto i film Disney C'è una grande differenza Perché lì Ti arriva la canzoncina A cazzo di cane Cioè un film musical Invece c'è La canzoncina È parte della narrazione Cioè non è che Improvvisamente Così Io ti dico che Che ti amo cantando C'è proprio perché Perché Disney Con gli uccellini Capito Cioè nel senso Se tu vedi film Come appunto Cabaret All the Jets O Che ne so Ma io sono più commerciale Un americano A Parigi Queste cose qua Non è commerciale Sei antico proprio Sono antico Cantando sotto la pioggia Queste cose qua Vabbè Quelli sono altri West High Story Sono altri tipi Sì Sono un altro tipo di musica Sì Sono un pochino più vicini al film Al musicarello Dai Al musicarello Quel con Celentano Dici Esatto Perché sei passato All'horror estremo Allora io ripeto L'horror estremo Ne ho fatti In realtà Allora Perché ha visto Una nicchia In cui poteva fare Denaro No scusate Esatto Infatti Mi volevo dire Sono rinchissimo Però Ti dico C'è un personaggio Non facciamo nome Per adesso Perché poi Se non va in porto Sembra che uno Dice le cazzate Però c'è un personaggio Che vuole fare Addirittura un libro Su di me Sul mio lavoro Quindi Se questa cosa Va in porto Io gli ho detto Non so Quanti possa fregare Effettivamente Poi del libro Che tu A me frega Così poi Quando mi chiedi Mi parli dei tuoi film Io so di cosa stai parlando Perché sono sempre Beh Sono sempre lì Che faccio figure Comunque mi hai fatto Venere in mente Una cosa Sì Volevo dire Che esce questo libro Ma secondo me Stiamo parlando Di cose molto vicine Che si chiama Il cinema degli eccessi Dove ci sei anche tu Infatti Volevo Appunto Invitarvi a prendere Questo libro Perché Andrea Di Sciola Produzioni Mi ha gentilmente Ciao Hiroshima Grazie per il rinnovo Dell'abbonamento 15 mesi Appunto Ci teneva a mandare Mi ha scritto Mi ha detto Ci tengo a mandartelo Quindi sarà Sicuramente Il libro di Andrea È una bella guida Insomma Per Per orientarsi Non è dedicato all'horror No Non è dedicato all'horror Però noi per esempio Qua parliamo Il cinema estremo Di qualsiasi genere Diciamo Il cinema estremo È disturbante Insomma Che genera emozioni Non diciamo Non piacevoli Non sempre piacevoli Noi qua spesso Parliamo anche di film Non solo horror Ma appunto Solo disturbanti Come può essere Sick of Myself Che è appena uscito O altre cose Di questo genere Willy Willy Disturbante Perché Ma tu parli Il primo è bello Il primo è bello Ma perché È abbastanza disturbante Dai Immagina Cioè Dei bambini Che lo vanno a vedere Secondo me sì Quella Quella dei rutti Mi ha disturbato tantissimo Mi viene da vomitare Questi due che ruttano Per riuscire a scendere No però Il comportamento Di Wonka Lui bravissimo Era un po' disturbante Perché è strano Perché i danni Come si diceva Sì sì E comunque appunto Volevo Volevo appunto Far notare Che dentro questo libro Che riceverò Di cui parlerò Ci sono tanti film Che veramente Non sono molto famosi Cioè Sono famosi Tra chi ama Questo genere Ci sono Ci sei anche tu Con Quali Io parlo di American Guinea Big Della serie Che hai prodotto Chiaramente Sì Non mi ricordo Ma che ho detto Perché l'intervista Io la feci Tanti anni fa Spero di Onestamente Di non pentirmi Delle pensiate Che avrò detto Sicuramente Poi quando arriverà il libro Scopriremo Esatto Se c'è da ristamparlo Esatto No tra l'altro Fra interviste Fra John Waters Karim Mossein E Let's Ortega Quindi insomma Sto in mezzo A personaggi Di un certo Sì sì Ma io volevo dire questo Ma posso presentarti La prossima live Come il pluripremiato Vincitore di David Donatello No non sono stato premiato A David Sono stato candidato Ah candidato Però c'ho quattro nomination Come direttore della fotografia Regia Vabbè però E anche come attore Non protagonista Per Fantasticherie Di Paolo Gaudio Quindi insomma Io direi Comunque D'ora in poi Sarà il pluripremiato Devo tirare un po' di più Ma perché stiamo dicendo Tutto questo Perché volevamo rispondere A Sto Karma Per fare questo libro Ovviamente mi sono andato A rispolverare Un po' di roba Io praticamente ho all'attivo 43 film Che include Ovviamente Portometraggi E Antologici Miei Solo miei Solisti Sono una trentina Di questi 30 3 4 5 Sono degli horror estremi Gli altri film Sono Horror Drammatici Fantastici Quindi in realtà Io l'horror estremo Non è il mio genio Non ho fatto 30 film Horror estremi Ne ho fatti 3 4 Gli altri film Sono in realtà Dei film Tra i film normali Com'è che ti si attacca Addosso un'etichetta? Cosa succede? Io sono il primo A farlo proprio Cioè quando vieni qua Cerco di sfruttare Le cose Perché purtroppo Diciamo Purtroppo Per fortuna I film Più standard Non gliene frega Un cazzo A nessuno Quindi Chiaramente Quei 3 4 film estremi Che appunto Si sono rivolte A una nicchia Più particolare Hanno Fatto Il loro successo Mentre invece Io che ho fatto Per dirti Il mio secondo film È un E' Se vogliamo Un dramma musicale Che è Museum of Wonders È a tutti gli effetti Un dramma musicale Con un cast Extraordinario C'è la Cucinotta Gian Piero Ingrassia Ruggero Deodato Maria Rosale Omaggio Insomma C'è un super cast Nonostante Ha vinto Il Fantafestival Come premio speciale Nel 2010 Io ho vinto Insieme a Roger Corman Roger Corman È stato premiato Come alla sua carriera Alla sua carriera Non dico finita Diciamo alla sua carriera No pensavo fossi In ballottaggio Per la carriera Con Roger Corman No no È come regista emergente Quindi insomma Diciamo Eppure sto film Non si è cagato nessuno Ecco Mettiamola così Mentre invece Film appunto Dei contenuti più estremi Chiaramente Vanno a rompere Determinati Come si dice Determinati schemi Per cui se ne parla Sicuramente Quando tu fai un film Se io dovessi fare Un film musicale Ad esempio Da indipendente A chi fregherebbe Cioè dove lo trovo Il mio pubblico Con chi vado a competere Con i musical americani Con Cioè C'è una C'è una competenza Di pubblico E di distribuzione Talmente grande Che il mio film Passerebbe totalmente Inosservato Anche se è bello Perché Vado al cinema Quando escono Filme musicali Come che ne so Barbie O altri Chiaramente no Nessuna distribuzione Se lo prenderebbe in carico Il pubblico Diventa un pubblico Vastissimo Quindi Quel pubblico Perché viene a scegliere A te Non ti scelgono No Mentre invece Nella nicchia Tutti puoi imporre In una maniera Sicuramente Quindi è un po' È vero quello che dici tu Cioè Nella nicchia Dell'estremo Io mi sono comunque Potuto imporre Perché Ho portato l'estremo A un livello Un po' più Estremo No Sono andato In territori E là dove altri Non avevano usato andare Per esempio Magari la necropilia Magari il sesso esplicito Magari il nudo maschile All'opposto Di quello femminile Che è tuttora Super abusato Anche se adesso Si cominciano a vedere Tanti maschi nudi Nei film Come vedi per esempio Saltburn Comunque è sempre Un tabù Vorgor È un tema Molto originale In effetti È l'unico film Su la vorare filia Sì Che è la Spieghiamolo Così Così rifacciamo un po' Perché Deve diventare un po' Estremo anche Questa live Esatto È una parafilia Quindi Un fetish Mettiamola così In parole poveri Dell'essere Ingoiato Quindi Le persone Che hanno Questa Questa parafilia Provano Il piacere sessuale Dall'idea Di essere ingogliati Da qualcosa Quindi non è cannibalismo Cioè E non è neanche Sesso orale Cioè Non è Non è sesso orale Si deve proprio Mandare giù No Ingoiare Sì sì Essere ingogliati Da un mobile Essere ingogliati Da un Una persona Sono ingogliati Da un divano Per dirti Sono delle fantasie Da un gigante Che in alcuni casi Diventano Come appunto Quello di questi due tizi Che sono conosciuti online E uno L'ha contattato Per farsi mangiare È un caso famoso No È cannibalismo Non era quella Però lui Provava Voleva essere mangiato Dall'altro Non era Però è cannibalismo Ok E tant'è che Questa storia Ha ispirato Il film Cannibal Di Maria Dora Ok Che è sempre Detro No È uscito anche con Detro Adesso È fuori catalogo Però Sì Però appunto Mi ha colpito molto Quando l'ho visto Perché appunto Effettivamente È il primo film Quindi c'è Da parte tua C'è sempre la ricerca È un po' come Quando parlavamo Dell'angolazione Di un'inquadratura No La ricerca di fare Qualcosa che non c'è Qualcosa che manca Perché Alla fine Se c'è Se c'è già E magari ci sono Dieci persone Che lo fanno bene Perché devo farlo Pure io No Per moda Cioè Cavalti l'onda È un po' come Quella cosa che dicevamo Cioè fai la pagina di cinema Dove parli poi Dell'esorcisma Di Suspiria Di Shining Certo Ti raccogli pubblico facile Quindi sai Uscita la bambola assassina Faccio pure io Il film sulla bambolina Stai sempre lì Io invece ecco Cerco sempre Di fare qualcosa Ma in primis Per me Cioè nel senso Di non Di non annoiarmi A ripetere le stesse cose Adesso l'antologia Che stiamo curando Come tu Anche perché In paragon Cioè Quel film lì Come altri Penso è imparagonabile Perché non ha Non ha nessun altro film E tanto come tu Sei stato uno dei primi A supportare L'antologia Su cui stiamo lavorando adesso Si chiama Six songs Sei canzoni E è appunto Sulla musica Cioè Sei registi Interpretano In versione horror Ognuno Una propria canzone Quindi È un tema abbastanza La musica nell'horror Non è nuova Nel senso Se pensiamo Se pensiamo Al fantasma Del patoscenico I rocky horror Morta attenta Dei giri Però ecco Diciamo Questa è un'antologia Dove effettivamente Sarà proprio la musica Sì Poi come Come l'hai interpretato È diverso Da questi film Che hai citato È proprio Cercare di rappresentare Un pezzo Cercare di rappresentarlo Visivamente Con una storia No Non è Di rappresentare Un pezzo Cioè Non è tipo Fantasia Che metti in cena Una canzone Diciamo In questo caso È che La musica È uno degli attori Del segmento Mettiamola Non è un commento E non è un videoclip È La canzone Come uno dei personaggi Della storia Praticamente Ok Ok In realtà Me l'avevi detto E mi era sfuggito Ora è chiaro E noi lo ridiciamo Perché così Insomma Poi siete curiosi Di vederlo Uscirà Poi saprete Quando uscirà Io ho un tema Ho un tema Per te Sì Che vorrei approfondire Che paura Sai cos'è Sora? Non Sora Rella Te lo dico io Perché secondo me In tecnologia Magari sono un pochino Questo tipo di Ah se parliamo di tecnologia No Io sono un comune Però se io lo so Che lo sai Io lo so che lo sai Cos'è Sora Magari non ti ricordi Si chiama così No ma è un comune In provincia di Frosino Ok No è anche L'intelligenza artificiale Appena Che ha appena pubblicato La notizia Che genera Video realistici Ah ho letto La tua notizia Però onestamente C'era solo questa I che lancia Sì 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 Ma trovo una cosa Fantastica Ecco io volevo Questa bella reazione Mi piace infatti Ho visto che Sì no Me ne devi parlare No non sapevo nulla Eh Sora la vampira Sì Dove è Zona No che tra l'altro Poi parliamo anche Di Zona la vampira Non so a retà Dico No perché In realtà Quel film purtroppo È carino Ma l'hanno capito Veramente in pochi Perché purtroppo Anche loro hanno puntato Io sono di quelli Che non l'ha capito Perché l'ho evitato Pensando che fosse una cagata Allora Zona la vampira Era un fumetto Porno horror Degli anni Sì Che se io li trovassi In una bancarella A proposito Anche li comprirei subito Perché sono affascinantissimi Si chiamava Zona appunto La vampira Ed era Il classico Come oltretomba No C'erano questi porno horror Horror erotici A fumetti Zora Però a Roma È anche il termine Per indicare Una ragazza Che è una coatta Una burina Ok Capito Quindi La tipica Cafona romana Quella di Napira E Calippo Ecco Cosa mi hai accordato Esatto Esatto Quindi praticamente Quello che hanno fatto Che Zora la vampira È una vampira Coatta Cafona Di Roma Capito Comunque È un horror Comedy Comunque Sì La potevano capire Apprezzare Chi è di Roma Diciamo Al di fuori Del Lazio Chiaramente Il gioco di parole L'hanno capito Solo loro Quindi purtroppo Ha influito Un po' Su tutta la La dinamica Del film Comunque Tornando a Sora No Mi dovrei spiegare Qualcuno meglio Però io la trovo Una cosa fantastica Io non so Assolutamente Praticamente Tu scrivi Per esempio Fammi una Un'inquadratura Appunto Come dicevi prima Dall'alto Di Tokyo Con queste due persone Che camminano In questo periodo Con la neve Che scende La luce Descrivi tutto Come se fosse Infatti l'articolo Che avevo letto Io lo paragonavo A una sceneggiatura Perché effettivamente La sceneggiatura Descrive molto dettagliata Quando serve Molto dettagliatamente Le cose Quando non serve Magari Te la lascia Cioè Del senso Magari Se sei in un bosco Non è che ti descrive Ci sono tutti gli alberi Sei in un bosco Invece qua appunto Più tu sei descrittivo E più puoi controllare Ciò che verrà generato Il fatto è che Genera effettivamente Delle cose Che sono A tanto così Da essere Identiche A A un filmato Vero Quindi si percepisce Che sono falsi Da dei piccoli dettagli Tipo Che magari Un guardrail Finisce dentro Un muro Però sono cose Che non noti A colpo d'occhio Quindi chiaramente Si parla già Di fare i film Semplicemente Cioè Tutti possono fare i film Che questo è un po' Il concetto Ma guarda Ma tanto già lo fanno Quindi che cambia Infatti Poi quando ne abbiamo Parlato in live È venuto fuori Anche che poi Alla fine Anche il 3D È qualcosa di finto Cioè Se vogliamo parlare Di finzione Anche il 3D È roba Che non esiste Veramente Nessun operaio Ha costruito Quella scenografia C'è uno però Effettivamente Che si è messo Il computer E l'ha creata Poi ci sono Dei 3D Che sono molto realistici Dei 3D Che fanno Abbastanza regare E chiaramente Andrà avanti A lavorare La persona Che ha più talento Nel farlo Ma questo vale Per qualsiasi Tipo di lavoro Tra l'altro Genera anche Degli attori Perché ci sono Delle persone Che non esistono Ma finalmente Avremo probabilmente Degli attori decenti E che non robano i coglioni Io non vedo l'ora Di poter lavorare Con degli attori virtuali Che almeno Eseguono Quello che devono Eseguire Della sceneggiatura Senza starci a fare I drammi esistenziali Dei loro traumi Ogni volta Perché veramente Io Uno dei motivi Per cui ho smesso Di fare film E proprio perché Non ne posso più Di lavorare Con gli attori Perché purtroppo Io sono un regista E non sono uno psicologo Né tantomeno Uno psichiatra E Né un amico Cioè un regista Non deve essere amico tuo Cioè Quando tu vai a lavorare Col tuo capo di lavoro Non necessariamente Devi essere amico No? Dobbiamo solo avere Un ambiente di lavoro A meno che non gli vuole Leccare il culo Per far carriera Possibilmente positivo Però ecco Voglio dire Che c'è questa 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 tendenza Oramai terribile A mettere dentro Il lavoro artistico Che sia teatrale Soprattutto teatrale O cinematografico Sempre portarsi appresso Tutti i problemi personali Che è proprio La prima regola Che si dovrebbe studiare Nelle scuole Che si studiava Cioè The show must go on No? Non me la sono inventata Io sta cosa Nemmeno tantomeno Queen Perché è una roba Che ancora Viene ancora da prima Lo spettacolo va avanti A qualsiasi condizione Forse sta già nei film Di Chaplin Degli anni 30 Questa cosa E Invece oggi Funziona tutto il contrario Ti devo portare appresso Tutte le mie rotture di coglioni Tutti i miei drammi Tutte le mie Quindi tu la vedi Come una soluzione Ma guarda Io da tempo Che sto dicendo Allora Che se Di voler fare Un film Con dei manichini Cioè Mi piacerebbe fare Un horror Fatto solo Con dei manichini Tra l'altro Tra l'altro Non li devi manco pagare Quindi Eh no Non sia Perché i manichini In realtà costano Beh costa farli No Io volevo usare Quei manichini Tipo quelli Di Di grandi magazzini Solo quelli Tipo Paolo Villaggio Quando Sì esatto Io posso farti Da Paolo Villaggio Se vuoi No costano tantissimo Costano tantissimo E anche noleggiardi Costano tanto Quindi alla fine Purtroppo Cioè Nell'assurdità Prendi degli attori Che sono No che mi devono costare Di più No però Guarda ti dico Io in realtà Adesso Io per esempio Negli ultimi film Non ho più lavorato Con attori Cioè Quegli attori Che sono nei miei film Non sono attori Sono persone Comuni Che hanno voglia Di fare Un'esperienza Differente Come se io ti dicessi Goz Ho questo script Ti andrebbe a te Di farlo E tu mi dici Guarda Lo faccio Con tutta la mia Volontà Perché mi diverto Mi piace Voglio darti una mano Ecco Questo è lo spirito Con cui io adesso Faccio i film E non prendo attori E Le candidature varie Per esempio Appunto Dei film Anche ai Davide Donatello Fanno capire Che effettivamente Non serve Essere un attore Brock Madsen In Red Crocod In Brock Era un Era un modello Ed era un Come L'aiuto Una persona Che non ha mai recitato Una persona Che Una persona Che intanto Vuole fare una cosa Già Sta a metà Dell'opera Cioè Se io ti dico Goz Mi fai Il protagonista In questo film E tu mi dici Ma io non c'ho voglia Non so capace Non c'ho tempo Già hai capito Ma dai Però sei proprio perfetto E tu dici Vabbè Te lo vengo a fare Vieni lì E stai con l'atteggiamento Di chi non sa Perché sta lì E non vedeva Tendarsene a casa Io lì non posso fare niente Se tu invece mi dici Sì cazzo Che figata Mi prendo una settimana Di ferie E te lo vengo a fare Io so già Che tu metterai Tutto a disposizione Per fare questa cosa Primo Secondo Ognuno di noi Ci ha vissuto Quindi Sicuramente Comunque io non lo farei mai Perché so che mi metteresti nudo Sicuro Ma magari non ti metterei Nudo Perché non so Quanto potrebbe essere Uno spettacolo bello No È orribile È orribile Questo Lo dico già Che è orribile Io sono consapevole Della mia bruttezza Sto scherzando Sto scherzando A parte questo No Probabilmente sì Ma io lavoro molto col corpo Quindi sì Potrebbe Non lo so Allora voglio una protesi Che faccia sembrare Che ha una tega gigante Me l'hanno Non sai quanta gente lo chiede Non sai quanta gente lo chiede No che poi iniziano a chiamarmi tutte Oh come stai Ho visto il film di Domizio Ma tu immagini Tra l'altro sì Che tu magari Non vuoi fare questa roba Perché capito Che non è neanche Un'esigenza scenica E poi nella realtà Però poi E poi Non può convivere Con la realtà Cioè Mette la vita di merda Che faccia questa gente Comunque Madonna che ridere Vabbè Comunque Adesso è un po' difficile Immaginarsi Come sarà il cinema Hiroshima È un po' preoccupato Lui fa regista Di Pubblicitario E È un amante Della fotografia E tutto Quindi sicuramente Ha una visione romantica Del cinema Adesso non voglio mettergli Parole in bocca Però in effetti Un po' uno si spaventa Dice ma Quindi faranno Tutti i prodotti Dell'intrattenimento Però alla fine Magari i prodotti Per i rimbambiti Che stanno Sulle piattaforme Li fanno veramente Con l'intelligenza artificiale E Chi vuole Qualcosa di più serio Più profondo Continuerà a vedere I film Secondo me Diciamo Quello che sta dicendo Antima È la risposta Più corretta Nel senso che Sai Quando Quando Si iniziarono A fare i poster Dei film Con il photoshop Molti Molti poster Dei film Fino agli anni 80 Erano dipinti Aerografati Poi hanno iniziato Ad usare Il collage Il photoshop E' la fine Dell'arte Io direi che Uno come Shotti Finchè è stato vivo Ha continuato a fare Poster per il cinema E Midnight L'ha chiamato Fino a Praticamente Che è stato vivo Per fare lavori Con loro Esatto Quindi voglio dire Non è che I poster Cioè nel senso Probabilmente Chi fa il poster Col photoshop A Shotti O a un pittore Non l'avrebbe chiamato Comunque Quindi non ha tolto nulla Cioè Quando è entrata Quando sono arrivati I synth Si diceva È la fine della musica La musica Si è continuata a fare Anche senza i synth Semplicemente I synth Sono entrati A far parte Di un altro linguaggio musicale C'è chi ha deciso Di volerli suonare C'è chi ha deciso Di continuare A usare il violino O il pianoforte Però non è che Il synth Ha tolto il lavoro Al pianista Io Cioè nel senso La tastiera elettronica Che ha sicuramente Mi è permesso Di suonare il piano Con il computer E ottenere delle musichine Del cazzo Che mi costano Meno di un pianista Probabilmente Io avrei comunque Chiamato un pianista Più scrauso E più economico Per farmi fare Le musichine Dell'horror del cazzo Che non al super pianista Quindi Il super pianista Continuava a lavorare Con il suo Entourage Come altri Continuano a lavorare Con i suoi Sì diciamo che Mi vengo a dire Che non è che Quello che poi Nascerà Da quel tipo di Video Sarà per forza Il cinema Cioè Sarà un'altra cosa Che magari Assomiglia al cinema Però ecco Non è che la gente Siccome adesso Hanno tutti un cellulare E fanno i video su tiktok Allora quello è il cinema Perché una volta Si sarebbe detto Che quello è cinema Cioè riprendersi Fare Un balletto È Invece no Sappiamo bene Che è un'altra cosa Il cinema ha continuato A essere quello che è E la gente fa Di tutto e di più Fa video su youtube Farà video con l'IA Farà Farà queste cose qua E ci sarà Una distinzione Ma già adesso Si usano per esempio Delle voci Ai No Poi ecco Cioè Magari non lo sai Però per Per equilibrare Questa cosa Stanno sviluppando Comunque delle Intelligenze artificiali Che fanno Individuano le cose Create con l'intelligenza Artificiale Quindi Di conseguenza Perché poi C'è effettivamente Il rischio che Tu fai Un film E Sembra Sembra Veramente un film Fatto Un vero film E allora ti posso Ingannare Dire che Capito Però Ti dico Per rispondere a Hiroshima Allora Quando uscì la fotografia Si diceva che la fotografia Inizialmente Non era una forma d'arte Oggi è riconosciuta Come forma d'arte La fotografia Beh potuto togliere Il lavoro a vittorio Cioè Sono forme d'arte Sono linguaggi differenti Il cinema Quando uscì Si diceva che era La morte del teatro Il teatro continua a esistere Indipendentemente dal cinema Anzi Forse adesso Lavora molto più Il teatro che il cinema Forse ha molto più successo Cioè Sono semplicemente Cose nuove Che arrivano Destabilizzano un ordine E creano magari paura Per questo Ma a me non mi sembra Che il cinema Ha distrutto il teatro Viceversa Che la musica elettronica O la fotografia Abbiano mandato in pensione altri Allora Io come regista indipendente Ho sempre speso i miei soldi Per fare i miei film No? I miei E se io da domani Voglio invece utilizzare la I Per fare i miei film I miei prossimi film A chi tolgo il lavoro esattamente A chi penneggio Fatemi capire Perché io non posso fare un film con la I Perché sono obbligato a pagare degli attori scrausi Che non valgono un cazzo Che mi rovinano il film che faccio Quando posso magari avere degli attori virtuali straordinari Cioè se io decido da domani Di iniziare a fare i film con la I Non sono più il regista Sono lo stesso regista di prima Che sta usando un altro mezzo Un altro linguaggio E che anzi si sta sperimentando In un suo nuovo linguaggio Io penso che sto facendo un passo avanti Per quale motivo Mi dovrei sentire Che sto togliendo qualcosa a qualcuno A chi lo tolgo Non sto vedendo oltre Però in che senso Dai litigate Secondo me Secondo me sto molto vedendo oltre Perché mi sto magari sperimentando anche in un altro linguaggio Cioè perché devo stare obbligato a continuare a fare la roba Nella maniera tradizionale Per sentirmi a posto con la coscienza Che ho pagato due speech Un direttore della fotografia Un operatore Un attorino che è uscito dalla scuola Ah ma anche no Cioè sta gente continuerà a campare A fare le sue robe Anche se io non la pago Cioè non vedo qual è la differenza Non vedo perché È vero anche che è un po' difficile immaginarsi il futuro Ma penso che fosse difficile anche Quando è arrivata la fotografia E quando è arrivata la musica digitale Cioè penso che C'è sempre una parte di persone che hanno una paura fottuta E un'altra parte che non ce l'ha E poi quello che succederà In realtà non è così prevedibile Ma guarda io credo che Lui dice ci sarà una salutazione dell'immagine dell'autore C'è già Perché ti posso assicurare Che io da regista indipendente Quando ho iniziato 17 anni fa Eravamo in dieci a fare film indipendenti Tant'è che quei dieci Beh non male Fortunatamente Che sono nati in quel periodo storico lì Se parliamo per esempio in Italia Zuccon Bianchini Io Buoni Ristori Ecco Se questi nomi suonano un po' È perché c'eravamo veramente solo noi Oggi Fanno i film con i telefonini Oggi ce ne è stato 200.000 Ma infatti anche la Solo nel mio festival Io ricevo 160 opere all'anno Solo nel mio festival Piccolo del cazzo Che non è neanche il tempo oggettivo per vederle Eh tu rendi di conto Fammi dire una cosa scusa Ma anche solo il fatto Il fatto che le tecnologie appunto hanno reso Ha dato tutta la possibilità di fare film Ha svalutato il lavoro degli autori no? Perché appunto tutti si sentono capaci Arrivano Io per esempio che guardo trailer tutti i giorni nel mio canale Vengono pubblicati su siti di cinema horror americani Costantemente film di tutti i livelli Dal B-movie Al fatto in casa Al fatto in casa col cellulare Senza voglia Fino alla produzione della Universal Cioè nello stesso sito C'è tutta questa roba qua E questo ha svalutato Cioè il fatto che è veramente con Come si chiama? Con la roba che appoggi il telefono E ti fa tutte le riprese I movimenti di Comunque quella roba Quella affare lì Che costa un centinaio di euro È accessibile a tutti E ti permette di fare Movimenti di macchina super fluidi Che ti rendono praticamente bravo Come un operatore che ha lavorato dieci anni Sì no ma sai Il discorso qual è? Che oggi Anche una distribuzione Fai molta più fatica A trovare distributore E questo te lo dico io Anche da regista indipendente Quando Qualche anno fa Cinque anni fa Per esempio Le label si litigavano Dei miei film Oggi Non se ne litigano più Perché? Perché ce ne stanno tanti di più Che non necessariamente Sono meglio dei miei Ma magari sono più economici Dei miei Perché? Perché magari Questo Il regista emergente Che Si fa il film Con il cellulare Che ha meno spese E anche E lo fa nel tempo libero Come hobby Quindi non come lavoro Il film magari lo regala In cambio di una visibilità E io invece Il film non lo regalo Allora qual è la differenza? Che spesso Mi vedo passare davanti Altra gente Perché la label Le label oggi Lavorano sulla quantità E non sulla qualità Quindi Più film hai in catalogo Più vendi Questa è una Più incassi Ecco Mettiamola così Più che vendi Vendi meno di ogni titolo Ma ne vendi tanti di più Quindi si lavora Sulla quantità Quindi fanno catalogo E allora Chiaramente questa cosa Ha un impatto Anche sul mio lavoro Però io che ci posso fare? Posso bloccarlo? Posso impedirlo? Devo dire agli amatori Di non fare i film? Io devo impedire? L'amatore rimarrà un amatore Il pubblico capirà sempre Comunque qual è un lavoro di qualità Da uno che invece non ha qualità Oggi comprerà Totto autore Domani non lo comprerà più Dopodomani vorrà di nuovo Il film decente Quindi io Magari adesso Devo guardare un po' più A largo termine Non so che a vendere Nell'immediato Però io continuo a fare Di prodotti che sono Di qualità Sì ma lo useranno tutti Ma magari io Che ne so Magari lo userò Meglio di altri Però non ti dico Per esempio Io adesso non lo so Io non so neanche Come funziona Stato Però sicuramente Ti dico Per il livello di saturazione Che ho io Di lavorare con gli attori Onestamente Lo proverò Assolutamente Perché In tutta onestà Tra poter fare un film Su una mia idea Che magari arriva a essere Addirittura come io lo voglio E La stessa cosa Ma con della gente sul set Che mi rompe i coglioni E mi fa odiare Ogni giorno Di stare lì sul set Preferisco usare una I Sicuramente Sicuramente Perché ti ripeto Per esempio Ti faccio un esempio Le pitte Le paranoie Le cose È una rotura di palle Che ti assorbe L'energia negativa Di gente frustrata Che fa l'attore Perché la mamma Gli ha detto Sei bellino Vai a fare l'attore E questa è tutta La preparazione che c'hanno Ma si sentono però De Niro E quindi Questa battuta Io non la dico così Questa scena Io la faccio colà Questa non lo sai C'ho un po' di febbre Non vengo Io ho lavorato Con 40 di febbre Sulla neve Ragazzi Per settimane intere Senza rompere i coglioni Nessuno Con la regia La produzione mi diceva Vai a casa Che stai male No Preferisco star lì Che stare a casa Cioè E qui perché C'hanno magari Un giramento di testa No oggi non vengo E blocchi Un'intera produzione Infine indipendente Dove Non abbiamo Come ti posso dire Di Laurentiis dietro Cioè Abbiamo i soldi nostri Che ogni giorno perso È una rovina È una rovina No? Sì E purtroppo così è Sembra che tutto Ho fatto una roba Fra amici Ma mi viene da Mi viene da pensare Che No Quando tu generi Con un IA Lui prende Fa Ragiona E crea un'immagine Questa immagine Iper realistica E allora tu dici Questa cosa è finta Non l'ho fatta io L'ha fatta l'IA Però mi viene in mente Una cosa Che c'è nel 3D Che è Il Gli effetti Particellari Cioè Sono quelli Che creano Con cui si fa l'acqua I capelli Questi effetti qua Non sono fatti Singolarmente A manina Da un modellatore 3D Sono calcoli Fatti Dal computer Poi tu puoi aumentare La schiuma dell'acqua L'effetto La trasparenza Però sono Generati Praticamente Dal computer Quindi Tu vai a vedere Il film Di Come si chiama Quello Dei tizi blu Avatar Esci dal film E tutti mi hanno detto L'acqua è stupenda L'acqua è stupenda L'acqua bellissima L'acqua di Avatar L'acqua di Avatar È l'acqua Che ha fatto Un computer È un'acqua Generata In quella maniera Lì Non è che un modellatore Ha sudato Giorni e notte Per fare No Ha scritto Dentro È quasi Esatto Più un ingegnere Che un artista In quel caso lì Poi chiaramente La modellazione Degli personaggi È ancora Un lavoro scultorio Diciamo Fatto al computer Però Mi viene da dire Che alla fine Ci sono cose Che si toccano Questi argomenti qua Eppure Quella cosa lì L'abbiamo accettata Cioè Tu immagini Adesso Stiamo parlando Per teoria Però Per esempio Fare un film Adesso come adesso Per quanto ne capisco io Cioè Addirittura Fare due sequenze Con lo stesso attore Credo che sia abbastanza impossibile Perché magari tu metti Questi prompt Nel programmino Ti tira fuori Sì però Diciamo che Tra pochi mesi Un annetto È tutto Guarda Ti dico Per quello che sto vedendo È molto esponenziale Questa evoluzione Cioè Siamo passati Da scrivere Una roba Che ti dà Delle risposte A generare A generare A generare dei video Realistici Quindi In pochi mesi È un po' C'è anche questa corsa Appunto A dominare il mondo No Da parte di Google Di Open AI Dici tu Voglio Voglio Che ne so Tokyo Vista dall'alto Con questa attrice Con i capelli neri Magari Nella seconda inquadratura È un'altra angolazione Di proprio Di un altro punto di Tokyo Con un'altra Sì C'è Deve Con un'attrice Finile Che non è uguale Magari c'è capelli Cioè Non credo Che sarà Poi così facile Non così presto Esatto Non adesso Non tra un anno Però comunque È qualcosa Che Sta procedendo Molto velocemente Ah ma guarda Kiroshima Che se tu mi Così in realtà Non è che mi Cioè mi consoli Perché A me più mi dice Che si può fare Che viene meglio Io già sto pensando Al prossimo film Sì poi comunque Sicuramente Sono apparecchiature Che non è che Come dice Ci sono due cose Ti posso dire Che ci sono già Dei registi Che hanno film Distribuiti Che Che una coerenza Fra le inquadrature Se gliele falla Ma magari Forse gli aiuta pure A fare dei film Meglio Cioè Che sappiamo In distribuzione Sì perché Perché poi La particolarità Di Sora È che impara Anche il linguaggio Cinematografico Cioè Perché Quello che Sora fa E non fanno Quelli che dici tu È Nutrirsi Di Disegnamenti Dai video Quindi lei impara Da Questa IA Impara Da quello che vede Perché tu gli dai In pasto I feed di Kubrick Non è come Cioè Quelli che dici tu Che li vedono E rimangono uguali A prima Non riesco A mettere insieme No perché qua Ci sono dei giovani Che ti mandano I filmi Premontati E tu gli devi far Notare Che in una scena Che nel totale C'hanno il bicchiere A destra Nella mezza figura C'hanno il bicchiere A sinistra Uno Fenomeno l'attore Che cambia Oggetto di mano Due Fenomeno il regista E tutta la truppa Che non si Che tra un'inquadratura E l'altra Non si accorgono Manco dei cambiamenti Ma sai Abbiamo sempre Questi De Niro Che sentono La scena al momento Per cui Non possono neanche Avere una conseguenzialità Negli stessi movimenti Perché loro Devono sentire Tutto dentro E allora Ti tocca Magari anche Che ne so Flippare le inquadrature Tagliare Riguadrare Per fare uscire il film In maniera che poi La critica Non dice Ah però Vedi C'aveva il bicchiere Nella mano sbagliata Perché magari Il film è tutto bello Ma poi si puntano Sull'unica cosa Che non fa E ti fanno nero E allora Però ecco per dirti Magari ben venga Una hic Almeno A questi Talenti Emergenti Che si sentono Tutti i pubblici Che De Niro Gli insegna Come tenere Una coerenza Nelle inquadrature Quindi Sì Diciamo che Tu Osea Perché La rapporti Anche a quello Che è lo stato Attuale Ma magari Chissà Si alza un po' Il livello Di tutti gli altri Per dover competere Con gli A Bisogna alzare Il livello Magari sì Magari sì Magari sì Magari si Alza il livello Io ti ripeto Ho lavorato su 2.7 Come truccatore Di effetti speciali Guarda Questa ipotesi Dove addirittura Si Cioè Si diceva In fase di ripresa Di correggere Poi in post produzione L'errore Che non si voleva evitare In fase di ripresa Cioè Tipo Carrello Carrello all'indietro Entra il carrello Nell'inquadratura E io facevo notare Guarda che si vedono I binari Bisogna ribalzare Un po' L'inquadratura Ah no Poi lo togliamo In post produzione Ma perché Che ti costa Lavoro Ma alza un centimetro La delegata Non lo vedi più No Poi lo togliamo In post produzione Qualsiasi cosa Poi in caso La leghiamo dopo In post produzione Ecco Alla fine Ecco Secondo me Magari se certa gente Deve cominciare a competere Con l'intelligenza artificiale Forse inizia a sviluppare Anche una sua Intelligenza Questa non è male Questa di Antima Interessante Perché lo paragona All'autotune Cioè Un'intelligenza artificiale Che tu fai il film La butti dentro E lui ti aggiusta Tutti i montaggi Tutte le cose Che hai fatto di merda Sì Che in questi casi Per dire Fino adesso Spesso lo faccio io Con certi Ti ripeto Con certi emergenti Che se la tirano pure Che però ecco Se la dovrebbero tirare Anche un po' meno No Quindi sai Sì Può succedere Se non puoi cambiare Cospettiva Il problema Che per dirti Questa Quando anche C'hai un budget Che non ti puoi permettere Neanche Di fare Tutta la post-produzione Che ci hanno in mente Quindi sai Bisogna a volte Trovare un po' Appunto Usare l'intelligenza Anche non artificiale Quella umana Di dire Ce l'ho Per carità Tu puoi fare tutto Ce l'ho i soldi Per fare la post-produzione Dopo? No E allora Alsi Di mezzo centimetro Di quadratura Vuoi Vuoi usare la post-produzione Dopo Perché vuoi quella Prospettiva lì Ok Allora dovrai rinunciare A qualche altro giorno Di ripresa Perché purtroppo Ci sono dei costi Se il tuo budget è quello Non è che puoi pensare Tanto sforiamo Perché i soldi Non sono i miei Capito? Purtroppo All'epoca I tanto criticati Bruno Mattei Giudato Eccetera Portavano a casa In quei tempi In quei giorni Con quei soldi Il lavoro Per questo Che io gli super rispetto Questi personaggi Perché A differenza di altri Hanno sempre portato a casa Il prodotto Con dei limiti Però Si era consapevole Dei limiti Che il prodotto Poteva avere Perché non c'erano dietro Le 18 settimane Cioè Fulci non aveva I mesi di ripresa Che aveva Argento A disposizione Non aveva I budget Che aveva Argento A disposizione Se non disse Argento Almeno una volta Della live Non è contento Ma perché è vero Perché Argento Poi dal suo canale Questo è un meme Del canale Meme del canale Ha sempre spalato Merda Sopra Fulci Fino alla fine Quando poi pentito Da un atto Di carità Dopo averla visto Malato Decise di produrgli L'ultimo film Perché forse Ha cercato Di ripulirsi Un po' La coscienza Di tutte le cose Che ha sempre detto Sopra Fulci Che ha detto Però È così Insomma Io sono Fulciano Fino alla fine Riconosco anche Che Fulci ha fatto Tante cagate Ma ripeto L'ha sempre portata A casa In quei tempi In quel budget Con il rispetto Del lavoro Di tutti Oggi Sai Ti ripeto Nel piccolo Si pensa sempre A Tanto c'è qualcuno Che ripara Tanto c'è qualcuno Che paga No Non è così Che funziona Bisogna spendere Cioè bisogna lavorare Pensando sempre Come se i soldi Fossero i tuoi No? Ci sono degli accordi Uh grazie maestra Grazie maestra Che ha rinnovato L'abbonamento Ossia mi sembra Quasi di tornare Un po' Lì Il discorso Dell'inizio Sul Proprio Sul maneggiare La telecamera Il carrello Costruirsi Delle cose Cioè tu vieni Cioè Apprezzi Quei registi Lì E hai fatto Quel tipo Di cinema Lì Cioè dove La post-produzione Era poca Alla fine Magari nei primi No? Beh ma anche adesso Cerchiamo di Forse Forse Blue Sunset È quello con più Ma Blue Sunset È pensato È già pensato È un film di fantascienza È un film pensato In Praticamente Per la post-produzione Perché Certe cose Però anche le cose A parte la parte in 3D Con Gli sfondi Eccetera Le parti non Appunto Con sfondi in 3D Quindi Reali Ti sei sforzato Però di usare Tantissimo I materiali Comunque Sì sì Quasi tutto fatto in diretta Cioè non è che ci hai messo Delle cose dopo In particolare Adesso non ricordo Però mi sembra No 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 È un film fatto al 70% Di effetti speciali Pratici Non c'è Digitale Tanto il digitale Lì è un 2D In realtà È un 2D Che crea Semplicemente Alcuni Alcuni Fondi Cioè maestro Cosa ne pensi di Questo regista Che si chiama Dario Jordan Peele D'Argento Penso che Sia Che sarebbe Una mescla Terrificante Chissà che film Verrebbe Oddio forse è meglio Comunque Probabilmente Un giorno Si potrà prendere Un film di Jordan Peele Uno di Dario Argento Buttarlo nell'EA E dirgli Fai un film Con questi due stili E verrà Non so E viene fuori Gensati Esatto Col suo cane Dilan Dog Sai che è il cane Che si chiama Dilan Dog No lo sapevo Qua si imparano Tante cose importanti Ma chi James Wan Che io ho sempre Chiamato Wan Come quello di Bim Bum Bum Ma James Wan Non è che ha fatto Solo roba brutta Cioè ha fatto Anche roba Cioè secondo me È uno che ci sa fare Perché chiaramente Parliamo di una persona Io ho due film Che mi piacciono Però sicuramente Non saranno i tuoi Uno è Dead Sentence Con Kevin Bacon Che no È un thriller Dove gli ammazzano La figlia E lui si vendica E poi l'altro E poi Che mi è piaciuto È Malignant Che non ho visto Nemmeno devo vedere In lista Un po' Anche Vai Mi è piaciuto Conjuring Ti devo dire Ah il Conjuring Io l'ho trovato L'ho trovato Un buon film Per i nostalgici Secondo me Poi tutto quello Che ha generato dopo È una merda No ma infatti Poi in realtà La mia critica Non è proprio Su quel film lì Ma su tutta Questa moda No Dei Warner Le tavole Ouija Tutta sta merda Cioè Stiamo sempre lì A me Se mi dessero Tutti i codi Che danno almeno Ma certo Ma lo farei pure io Ma dove si firma Quindi sì Però diciamo Che Conjuring Per esempio Per quattro Non sia super originale Perché C'è un po' di tutto Dentro Tra Poltergeist Tra Anche Amity Di Lorror C'è un po' Questo calderone Però per dirti Ha delle Cioè Si vede comunque Il talento registrico Perché per esempio Ha dei tempi Che sono veramente perfetti Dei tempi di montaggio Di suspense Che sono veramente perfetti E poi ho apprezzato Veramente tanto Per dirti L'esorcismo Nella scena finale Perché Era facilissimo In un esorcismo Finire nella solita Puttanata Già il fatto Che invece La copri La coprono Con il lenzuolo Sì sì Che quando si alza Con la sedia Io l'ho trovato Veramente una bella Una bella mossa Di stile Perché hai In qualche modo Sì sì Sono d'accordo Superato Il cliché Di fare L'ennesimo esorcismo Di vomitate Cazzate Minchiate Facce strane L'ho trovato Un gesto Molto intelligente E tra l'altro Anche coraggioso Per un film Un stream No vabbè Ma anche il fatto Che appunto Io odi Quel film lì È un falso Nel senso che A me Diciamo Non piace Particolarmente Però la bellezza Estetica Diciamo Proprio Tecnica L'ho sempre Vista Non mi piace La fanbase Che si è creata Tutta questa Cioè tu lo sai Chi sono I veri fan Di questa roba Sono persone Che ti dicono Che quello È il miglior Film horror Di tutti i tempi Sì ma poi Tutto quello Che ha generato Questo mi irrita Tantissimo E quello che ha generato È anche peggio Quindi C'è quell'altro film Come si chiamava Sempre del Che è il sequel No Dove vanno The Dan No Vanno tipo Nell'al di là Che c'è il bambino Ah Insidious Insidious Sì mamma mia Ecco ti dico Mi hanno consigliato Insidious Persone anche Che io Avevo Anche Insidious Beh è brutto Avevo Da dopo quello Sì perché Che mi hanno detto No è molto meglio Dico ma come Hai visto Conjuring Ti è piaciuto E non hai visto Insidious 10.000 volte meglio E allora io Spinto da questa fiducia Me lo sono visto E Boh Cioè sì Cioè capisco Da una parte La parte economica Dall'altra Non capisco Cosa ci ha visto La gente di bello In quel film Veramente Sì sì A me stanno Un po' sulle palle Warren Onestamente Proprio Come figura Cioè persone Che vanno in giro A dire Alla gente Che Che è posseduta E che loro Possono aiutarli Che non prendono soldi Che non si fanno pagare Cosa Che Erano i personaggi A quanto pare Erano così No no Erano così Infatti ha messo Su cazzo Quelli veri Perché Io li vedo Alla stessa stregua Di Vanna Marchi Do Nascimento Cioè Sì erano Perché poi Alla fine Avevano il museo Avevano Dicevano Di non farsi pagare Ma Poi Parliamoci chiaro Questi qualcosa Pigliavano Non mi piacciono Non mi piace Neanche Per esempio Il fatto che In quello In quello nuovo C'è il ragazzo Che ha ucciso A coltellate Il padrone di casa È il protagonista Di questa storia È finito in galera Ed è Negli extra Viene intervistato E nella storia Del film Viene raccontato Che lui È stato posseduto Da L'avvocato In tribunale Ha portato Come motivazione Che era posseduto Dal demonio Che è stato Il primo caso In America E che ha portato Questa giustificazione Per giustificare Il personaggio Cioè Il personaggio vero Esistente È su cui È tratta la storia Ed è negli extra Viene intervistato Dopo che è uscito Di galera Cioè È una roba Veramente Ad uso e consumo Del dollarone Vabbè Hanno intervistato Diciamo anche Manson E altri personaggi Cioè Ormai Si fa spettacolizzazione Sì Io so che in Giappone Addirittura Un cannibale Adesso conduce Un programma Di piccina Ah ok Fantastico Uccise una ragazza Ha scontato La sua pena A 40 anni E adesso Conduce Un programma Come cucinare Le ragazze Praticamente Sicuramente Meglio di Benedetta Parodi No però Per assurdo È questa La cosa Cioè Sbatti il mostro In prima pagina Certo Il famoso Indipendentemente È sempre una fama No? Quindi Comunque Siamo in chiusura Però io Vi anticipo Che la prossima volta Parleremo Di un argomento The Secret Life Of Penis Che è un libro Pieno di cazzi Fatto Giusto? No questo Non l'ho scoperto Oggi Però Potremmo scrivere Io l'Afsinossi Libro pieno Di cazzi Fatto Da Che lo vendono Fra l'altro Nelle librerie Di Harvard Ecco Vedi Vedi Che è venduto Nelle librerie Quindi la prossima volta Ci parlerai In una libreria E ci puoi trovare Il mio libro E io ho fatto Questo post Su Facebook Dove ti dicevo Anche nelle librerie Di Harvard Vendono i miei libri E Facebook Oggi mi ha notificato Che il mio post Vabbè giustamente Lo muove Come si dice L'adescamento sessuale Fra tutti Quindi Ah perché scusa L'adescamento sessuale Fra tutti È vietato Non l'ho capito Cioè ci tolgono Pure il divertimento Normale Cioè posso capire Sui minori Cazzo ma Cioè Eh però sì Siamo alla pari Cioè come un minore Tu adulto Non lo so Dobbiamo fare L'holly fans Mio e tuo Insieme Un pensimento Esatto No senti Tipo Il cinema nudo Con noi nudi Che parliamo di cinema Ancora Ancora Due persone Un nudo Mi sa che fai Una bella figura Io no Quindi lasciamo perdere Va bene Secondo me Hai i tuoi fans Anche tu Ma certo Sicuro Nell'ambito Amanti Amanti Dell'orrido Nell'ambito Berar Sai che ci sono I Berar Sì 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 Lo so Perché lo sai Allora No perché mi contattano Mi mandano foto Eh allora lo vedi Sono stalkerato Come fossi una figa Praticamente E allora aspetta No parliamo Del mio libro La prossima volta Parliamo dei voi stalker E dei pochi Che ti mandano Secondo me Questo Questo è un tema Molto più Interestazio Va bene Grazie Dom Vi ricordo Che potete seguire Domiziano Sul suo Instagram E trovate I suoi film Sul sito Gordrom E sul sito Tetrovideo E ci vediamo Con lui Tutti I lunedì Alle 12.30 Per chiacchierare Di cinema Ma anche di varie Stronzate Così per ridere Grazie Dom E alla prossima Grazie a voi Ciao caro Ciao a tutti